In realtà il PD nel mezzogiorno è molto forte, vivo, vitale. Forse hanno ancora preso consapevolezza del suo ruolo e probabilmente anche a Roma non hanno compreso fino in fondo le ragioni che hanno spinto tanti uomini e donne del sud a votare per il Partito Democratico. Quindi è un processo lento nel quale il Partito Democratico, che oggi ha una trazione nordista, le idee, le suggestioni sono tutte fondate su un immaginario che non è quello del mezzogiorno. Dunque il nostro compito è ricucire, come sempre, come fanno i partiti riformisti che ricuciano le idee anche quando si ha l'impressione che si stiano sgranando e con un colpo di reni speriamo di riuscire a riportare il sud dentro il PD.